In questo spettacolo interpreto Junior, che è il figlio più giovane della duchessa. Lo incontriamo subito in un tribunale, si deve confrontare con quello che è l'atto che ha compiuto. Penso che il lavoro di Donelan sia eterno ed universale. Che cos'è eterno ed universale? La vita, no? Abbiamo scavato e scoperto e cercato quella. I meccanismi umani che stanno al di sotto delle parole che si dicono. Fa anche un po' paura, perché sei parte di qualcosa di grande. E quindi è come se ti venisse chiesto di essere grande. Mi porterò a casa la riscoperta del gioco, l'essere sempre aperti. Devi venire a vedere l'altra gire del Vendicatore perché è una figata pazzesca. Perché ti siedi e ti porto da un'altra parte. Grazie. Grazie.